voliamo un po' più su dove il cielo è tutto blu i fantastici guardate, eccoci arrivati, quella è l'Africa Rocket ci ha portati qui in un batter d'occhio adesso gli gnu possono attraversare il fiume e anche quei fenicotteri non preoccuparti, ti libereremo da queste rocce ehi, guardate, questo calabrone vuole aiutarci ha funzionato, ci ha notati il calabrone gli sta chiedendo se ci aiuterà a liberare Rocket wow! ehi, forse un ippopotamo potrebbe aiutarci a salvare Rocket aspetta, Annie è vero, è un rinoceronte il rinoceronte è sulla nostra strada? si come farà a non accorgersi che gli passeremo accanto? dovremmo camminare rumorosamente, fortissimo o silenziosamente? battete le mani quello che mancava per aiutare Rocket è gigantesca il calabrone sta chiedendo alla giraffa se è disposta ad aiutarci e adesso è il momento dei ringraziamenti un applauso per la nostra squadra applaudite con noi decisioni di Albert Dürer e adesso è il momento che tutti stavate aspettando un grande, grandissimo applauso per la musica che abbiamo ascoltato oggi grazie grazie